Corleone, l'ultima volta che siamo saliti su quel ring, mi è quasi spezzato un braccio, ma alla fine Endy Manero è rimasto vivo. Sei giorni dopo mi hanno messo contro il Mr. Excellent, il re delle sottomissioni. Ho rischiato ancora una volta, ma alla fine sono rimasto vivo. Non solo, ho dovuto reinventarmi, ho dovuto fare qualcosa che in pochi possono vantare nella propria carriera. Io ho fatto cedere Mr. Excellent. Perciò Corleone, preparati. Endy Manero ha appena cominciato a ballare. E la prossima volta che saliremo su quel ring, io ti farò cedere e sarai tu a dover restare vivo. Stay in life. Fever, not fever.